Lunedì pomeriggio Sua Maestà il re Abdullah II Bin Hussein di Giordania è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. Naturalmente la visita ha avuto luogo nel contesto dell'atteso viaggio del Papa in Terra Santa, dove toccherà anzitutto la Giordania e Sua Maestà ha avuto modo di riaffermare i sentimenti con cui il popolo giordano si prepara ad accogliere il Papa e le disposizioni più aperte alla collaborazione, nell'impegno per la pace e per il dialogo interreligioso. Grazie